Fino a ora i pensionati hanno avuto pazienza, ma se non verranno presi quanto prima provvedimenti per adeguare il sistema previdenziale e sanitario alle esigenze degli over 65, la situazione economica della parte più debole e più consistente del Paese potrebbe peggiorare sensibilmente. A lanciare l'allarme la Federazione Nazionale Pensionati della Cisle della Terra di Bari, che nel rapporto 2014 punta il dito contro le inefficienze del sistema, a partire da quelle regionali, in un comprensorio dove i pensionati sono più di 300 mila. Io spero che il governo si accorga dei pensionati, ma non solo il governo centrale, ma anche i governi locali, a partire dalla regione Puglia. Per quanto riguarda la sanità, crediamo che, vendo alla prima di andare via, ci deve pur fare un rendiconto di dieci anni di governo della sanità pugliese. Io credo che i parametri che ci consegna sono estremamente negativi, dai ricoveri, dai ticket, dal disagio, dalla sanità privata. Cioè abbiamo un sistema sanitario che dobbiamo prendere atto che non ha funzionato, in particolar modo per quanto riguarda i pensionati, gli anziani, che ha disagio sostanzialmente. Un avvertimento che i pensionati lanciano anche al governo Renzi, e non solo per gli 80 euro che finora non hanno ricevuto. Diremo a Matteo Renzi che ora stiamo sereni, perché lui sicuramente dovrà intervenire nei confronti di pensionati, i quali sono stati talmente responsabili da rinunciare agli 80 euro, hanno rinunciato alle dentiere perché hanno poco da mangiare, ma facesse attenzione che possono mettere anche in discussione il suo successo. La responsabilità a partire da oggi è tutta sua, non ci sono altri a cui chiedere. È lui che dovrà rispondere anche ai pensionati che l'hanno votato.